Molte cose ancora non sai, figlio mio. Ora mi chiedi, per esempio, cosa renda speciale un italiano. Ti domandi, figlio mio, quali siano quei marchi, quei tatuaggi incandescenti che restano sulla pelle degli italiani e li rendono così gente unica. E tu mi chiedi come riconoscerla, quell'unicità. Se il mio dovere è quello di risponderti, mio amatissimo, io ti risponderò senza indugio. E ti dirò che ciò che rende assolutamente inconfondibile un italiano in mezzo alla folla è il suo approccio davanti ad un buffet. Non sappiamo cosa avvenga fisiologicamente, biologicamente all'interno di un italiano, ma sappiamo che ciò che accade quando l'italiano si trova di fronte ad un tavolo imbandito con mille e più pietanze è qualcosa di incredibile. E sappiamo che tutto l'incredibile è riconducibile soltanto ad un'unica parola. Gratis, gratis, gratis. L'italiano di fronte ad un buffet che gli viene offerto ha le stesse sintomatologie dei cani di Pavlov. E questo della salivazione è un processo spontaneo che investe la tua persona conterranea, a prescindere dalla sua classe sociale. E ciò è bello, è giusto, figlio mio. Le cosiddette autorità per dirti, autorità, personalità e tutte quelle persone semplici che preferiscono essere chiamate con questi termini che finiscono in ta, non sono esenti. Anche se hanno la borsa di fendi, vedrai la tua gente annebbiata, accecata dalla possibilità di mangiare al buffet, risparmiando altrove e quindi dimentica del pubblico decoro. Vedrai qualcuno prendere il piatto dalla pila delle stoviglie e tenerselo qui sul petto, stretto stretto, come farebbe un frate con la Bibbia. Ma tu non emulare, resta saldo. Il piatto tienilo tra le mani. Distinguiti dalle bestie, cazzo. Li vedrai tentare di superare la fila, ovviamente, facendo finta di non averla vista, oppure adducendo scuse su ipotetici impegni che li richiamino a salvare la società e quindi devono fare uno spuntino prima, abbia pazienza. Sono un'autorità. Ma tu non creder loro, figlio mio. E cedi il passo ai loro stomaci, perché non ci si può spiegare né capire con le cloache. E poi, una volta arrivato lì al buffet, li vedrai, figlio mio, mangiare perfino con le mani. Perché è arrivato finalmente davanti alla pietanza dopo 40 minuti di fila. L'italiano si sente potente, figlio mio. E quando si spera fortemente in qualcosa, non si contempla il contrario. Ma tale speranza in Italia si nutre solo per queste questioni del cazzo, della mania gratis. Gratis è sinonimo di Dio. La parola gratis, figlio mio, risveglia i morti, fa sorridere i malinconici, fa breccia nel cuore di chi deve far favori o concedere il proprio tempo all'azienda per cui lavora senza esserne consapevole. Il cibo gratuito ipnotizza, figlio mio. Quando si prefigura la possibilità di scroccare tutto, un senso di benessere colpisce il tuo concittadino. Ed è un piacere che difficilmente il tuo concittadino proverà altrove. Un giorno, figlio mio, anche tu proverai quella sensazione. Non cedervi. Sii forte. Gratis.